Hello bad guys, benvenuti in questo nuovo video. Quante volte avete cercato vari venditori cercando di risparmiare il più possibile sulla spedizione e sulle carte singole? A me è capitato purtroppo un sacco di volte e non sto scherzando, ho buttato via molto tempo soprattutto per gli ordini di gruppo assieme ai vari amici per ridurre il numero di spese di spedizione, cercare il venditore con più carte possibili andando anche a pagare qualcosa in più per quella singola carta rispetto a un altro eccetera eccetera. A questo problema finalmente però abbiamo una soluzione, ossia CardTrader.com o meglio il servizio CardTrader Zero. Alcuni di voi non lo conosceranno, magari sì, ma sono titubanti per l'affidabilità, tempi di consegna, condizioni delle carte o soprattutto vi sarete chiesti se esiste un risparmio effettivo. A questo proposito ho deciso di farvi un video in cui vi spiego le principali funzionalità del marketplace e risolvere ogni vostro dubbio facendo anche un esempio pratico. Quindi in breve, cos'è CardTrader? Semplicemente è un marketplace made in Italy, attenzione, specializzato in giochi di carte collezionabili dove venditori da tutto il mondo vendono appunto carte di Yu-Gi-Oh! Ma non solo, ci sono appunto Magic, Pokémon, Vanguard e New Entry da qualche tempo, anche Digimon e ovviamente tant'altro. Perché usare però questa piattaforma? Diciamoci la verità, siamo tutti poveri e cerchiamo sempre una maniera per risparmiare. Siamo italiani dopo tutto. E soprattutto sulle spedizioni che fuori dall'Italia sono decisamente più corpose, arrivando anche sui 15€ per una piccola bustina. Ed è proprio da questo problema che origine CardTrader Zero. Quindi non importa da quanti venditori compriate le carte, che siano 1, 2, 3 o anche 100, se questi partecipano al servizio pagherete sempre e solo una singola spedizione, anziché ognuna per ogni venditore. Com'è possibile? Diciamo che CardTrader è come se comprasse le carte al vostro posto, accentrando le spedizioni di tutti i venditori dove avete appunto acquistato le carte, alla propria logistica, dopodiché invieranno in un singolo pacco ed in un'unica spedizione il tutto direttamente a voi. A questo punto potreste chiedervi, ma se sono più venditori devo aspettare che arrivino tutte le carte prima di poter essere spedite? Non necessariamente. Mi spiego meglio, come direbbe qualcuno mi spiego peggio. Compri le carte che ti servono sul sito, scegliendo da venditori di tutto il mondo, senza spese di spedizione, le carte arrivano al loro magazzino dove il team di CardTrader le verifica manualmente una ad una. Queste carte poi vengono conservate in una sorta di cassettino postale, potremmo definire vostro, e quando volete potete riscattare le carte e farvele inviare a casa con una spedizione, che è l'unica spedizione a pagamento appunto. Quindi per evitare fraintendimenti paghi ogni qua volta ti fa inviare una spedizione da CardTrader, quindi non dal venditore ma da CardTrader, caso che tu necessiti di determinate carte il prima possibile. Prima di effettuare gli acquisti sul sito ovviamente è obbligatorio registrarsi, ma fermi lì perché potreste risparmiare ancora un pochino sul vostro primo ordine. Avevo già fatto un post a riguardo qui su YouTube, ma farò un annuncio anche qui. Cliccando sul mio link personale qui sotto in descrizione potrete registrarvi al sito ottenendo ben 2€ di credito gratuitamente, supportando allo stesso tempo il mio canale. Una volta registrati apremo questa schermata qui e simuliamo un primo acquisto, quindi cercherò casualmente, sarà il Red Eye Startness Metal Dragon, che coincidenza, non l'avrei mai detto, lo prenderemo da Dusa, e ci troviamo quindi nella schermata appunto della nostra carta interessata. Nota importante, se vogliamo acquistare tramite il servizio CardTrader 0 dovrete cliccare sul bottone giallo, con la scritta 0 e non su quello blu. Attenzione, quindi per essere più precisi ed evitare fraintendimenti, sotto la colonna 0, come potete appunto vedere. Ovviamente potrete filtrare e migliorare le vostre ricerche tramite appunto la colonna dei filtri, quindi metterò, facendo un esempio, solo italiano e inglese come lingua, ed ecco qui che si aggiorneranno i risultati appunto della carta in questione. Noterete inoltre che sotto alcune icone 0 ci sta una piccola riga, anzi facciamo qui dal primo, con scritto 3 più 7, ossia settimane. Questo significa che sono ovviamente venditori aderenti al servizio 0, ma essendo alcuni venditori fuori Europa, il tempo necessario all'arrivo delle carte verso la logistica di CardTrader richiederà un più tempo del previsto. Sì, ma molti venditori sono americani, canadesi e inglesi. Si paga quindi la dogana? Io non me ne capacito, ma la risposta è no. Non pagherete alcuna dogana nemmeno alla consegna della merce. Quindi, caso che aveste fretta nella ricezione delle carte per un torneo imminente o qualcosa di simile, gli stessi membri di CardTrader invitano ad evitare di acquistare tramite questo servizio, almeno se sono 3 settimane perlomeno, a sfruttare quello classico, magari fa riferimento appunto a venditori della zona con il servizio 0. Personalmente parlando, in ogni caso, non ho molta fretta nell'acquista e nella consegna di alcune carte, basta che arrivino nelle condizioni da me acquistate e che soprattutto vada a risparmiare. Però, di mostrarvi questo risparmio effettivo di cui si parla, sfrutterò la Wishlist, che è uno strumento che onestamente non utilizzavo mai fino a qualche tempo fa, ma ormai ne sono quasi dipendente per gli acquisti online, quindi non solo con CardTrader 0. Quindi, praticamente, ora, questo è sempre un esempio molto pratico, avremo 3 Enrico, 3 Wolf e 3 Asci Signore Cristia. Andiamo a ottimizzare il carrello, non il cartello, ed ecco qui le tre tabelle. Nella sezione verde, quello diciamo economico, il sito calcolerà le carte che costeranno meno, ovviamente secondo indicazioni da noi inserite, senza CardTrader 0. Quindi, scusate se mi ripeto, calcolerà il numero di spedizioni per ogni venditore, per un totale di, in questo caso, 49,90€. Nella sezione blu, invece, come appunto suggerisce il nome, minimizza venditori, il sito calcolerà il totale minore possibile, basandosi sul minor numero possibile di venditori, ma andremo a spendere 52,56€, che è nettamente superiore alla cifra citata prima. Infine, nella tabella centrale, che è quella di CardTrader 0, spenderemo soltanto 22,69€ pagando una singola spedizione e avere tutte e tre le carte, anzi in questo caso dire tutte e otto le carte, in una singola spedizione. Quindi, come potete vedere, il potenziale di risparmio tramite il servizio CardTrader 0 è enorme. Ma in tutto questo, a quanto ammonte il costo della spedizione da parte di CardTrader? Il prezzo parte da 3,90€ fino a 34 oggetti e cambia in base al numero di carte che andrete ad ordinare, che potrete controllare direttamente sulla tabella delle spedizioni disponibile nel suo sito oppure direttamente qui in schermata. Ora però andiamo a vedere nella pratica come funziona il pacco che arriva e lo faremo tramite uno dei miei acquisti. Ed eccoci qui, il pacco è arrivato. Qui, giustamente, ho rimosso l'etichetta con i miei dati e si tratta appunto di questo tipo di pacco perché appunto conteneva più carte rispetto alle 34 che vi ho citato. Quindi, un attimo che apro il pacco per l'appunto. Ecco qui, vediamo tutta la confezione per intero. Allora, io un'altra cosa, ragazzi, che vi vorrei dire riguardo CardTrader Zero, CardTrader in generale, è il sistema di difformità delle carte che pian piano, cioè pian piano, se c'è la faccia di aprire tutto questo, magari potrei spiegarvelo. Ecco qui come sono imbrate le carte. Allora, praticamente se le carte non dovessero corrispondere ai criteri da voi indicati, CardTrader riacquisterà senza alcun costo aggiuntivo le carte da un altro venditore. Mi spiego meglio. Ho ordinato una carta in condizioni, che ne so, slightly played, ma in questa risulta pur, non lo so, ha qualche problema, qualche difetto, qualsiasi cosa. E lo staff di CardTrader se ne occuperà personalmente, senza farvi perdere troppo tempo per stare appresso appunto ai messaggi, poi l'orario in cui siete connessi per discutere con il venditore, non coincide, eccetera, eccetera. Scegli se vuoi il rimborso e devi inviare appunto il pacco, cioè tutte queste cose qui non ve le evitate, insomma, cioè, che... parliamoci chiaro, è veramente una rottura di scatole. Riguardo questo, inoltre, sarete voi a poter decidere, in schermata, poi vi lascerò la descrizione più dettagliata del sito, va detto in maniera molto molto spartana, magari riesco a togliere tutte le cose, detta in maniera molto spartana e barbara è come se impostassi una sorta di soglia minima, ma... scusate, di soglia massima, rispetto alle condizioni della carta, facendola passare per buona, anche se magari non è proprio la condizione da voi acquistare, acquistata, scusate. Ok, ora andiamo a vedere un po' le carte... Beh, magic, diciamo, non me ne importa, sono state messe giusto per l'imballaggio. Allora, andiamole un po' a vedere, altre carte di magic... E qua no. Allora, le carte abbiamo qui, appunto, il seller, che è appunto il venditore, e qui il buyer, che in questo caso sono io. Quindi andiamo a vedere un po' di carte, poi me le andrò a vedere bene nello specifico, e controllate anche che siano tutte... Oh, che fighi questi americani! Questi americani sono veramente una figata. Abbiamo Henry's Flagello del Cielo, Vesking e Barbaros, più altre carte ancora, perché appunto potrebbero venire dallo stesso venditore, quindi appunto le hanno messe assieme, Gandora, perché io sono un gran fan di Gandora, Cyber Valley, questo per esempio... Ecco, per esempio, questo qui non è nella realtà che avevo detto, però quindi andrò a ricontattarli, mangiare la dualità, Mandalion, Shining... Allora, cosa fare appunto in caso di problemi come questo qui? Allora, andiamo a vederlo. Dato che non corrisponde magari all'espansione dove l'ho comprato io, basterà andare sul vostro ordine, e prima di confermare la ricezione, mi raccomando, accertate che tutto sia a posto per l'appunto, e poi segnalate allo staff i problemi relativi all'ordine, e vedere la soluzione migliore fra le tante che appunto il servizio va ad offrirvi. Io qua continuo a farvi vedere un po' le carte, molto dolcemente. Ecco, maggiore ragione ragazzi, passate a vedere un sacco di carte hero, quindi spolliciate se volete magari anche vedere una decklist hero. Guardate qui, un rayo finalmente, il secondo e il terzo. Oh, il summer dead school, che bello che sei! Cioè ragazzi, questa penso sia una delle carte meno calcolate di Yogi. Vabbè, poi me lo andrò a vedere io singolarmente. E niente ragazzi, questo era tutto da questo video, il reddice è immancabile. Questo era tutto da questo video, io spero di esservi stato utile anche in questa piccola guida, di AstroCart Trader per avermi offerto l'opportunità di appunto essere affiliati con loro. Quindi per le carte singole ve lo consiglio. E quindi niente, se vi piacciono questo tipo di contenuti, piace Edison, formato tutto in Google Plant, iscrivetevi al canale perché arriveranno presto nuovi video. Quindi, grazie ancora, sfruttate mi raccomando il link qui sotto in descrizione per ottenere 2 euro di credito gratuitamente e supportare allo stesso tempo il canale. E arrivederci al prossimo video. See you next time!